FATEMI DA PARTE Tesoro, non sarai lesbica? Papà. Magari. Ma quando l'FBI ha bisogno di un agente infiltrato... L'attentatore ha cambiato bersaglio. Abbiamo un'emergenza nazionale. È il concorso di me, Stati Uniti, capisci? L'unico uomo all'altezza... È una donna. Fai un po' di esercizi per rassodare il culetto. Tieni su qui e vedrai che sfonderai. Sì, sfonderò te! L'FBI vuole infiltrare uno dei suoi agenti nel concorso. Avete qualcuno in mente? Scusi. Non sembra adatta la parte. Non riuscirò mai a preparare quella donna in due giorni. Sembra l'ispettrice Callaghan. Non recita la parte. Facciamo uno spuntino di mezzanotte e qualche pettegolezzo? Non possiamo prendere pizza e birra. È birra light e poi vi tirerà sul morale. Non vuole la parte. Non sfilerò mai in costume da bagno come un'occa giuliva. Qual è il tuo giorno fortunato? Ecco, devo dire il 25 aprile. Ma Gracie dimostrerà che tutto è possibile. Ho il gel nei capelli, non ho dormito tutta la notte, sto morendo di fame e sono armata. Non fare lo scemo con me. Sto bene. Stai facendo un buon lavoro. Mi trovi bella, vuoi uscire con me. Tenetevi pronti... Ho una pistola! Ho una pistola! Per il nuovo volto dell'FBI. È ovvio che aveva la pistola. In Texas tutti hanno la pistola. Il mio fioraio ha la pistola. Miss Detective. Qual è la prima cosa di cui ha bisogno la nostra società? La pace nel mondo. La pace nel mondo. La pace nel mondo. Una dura punizione per chi viola la libertà sulla parola. E... La pace nel mondo. La pace nel mondo. I feel like a woman.